Buon salve, bentornati su No Mamamazzo. Anche oggi parliamo di Dilan Dog, per la precisione Dilan Dog Magazine. Prima di cominciare però vi ricordo che qua in descrizione trovate dei link per poter effettuare una donazione all'ospedale di Bergamo, una delle città più colpite da questo dannatissimo virus, la mia città. Uno è il sito del Cesvi, dove potete donare direttamente la terapia intensiva dell'ospedale, l'altro sito a tema molto più nerd è una campagna di crowdfunding lanciata dall'associazione culturale Bergomix in collaborazione con Guardiani Italiani e con la rock band Cristoni d'Avena, che vi permette, a fronte di una donazione, di avere anche delle illustrazioni digitali create da diversi illustratori, fumettisti, autori italiani che mettono a disposizione per questa campagna. Allora io di solito non compro il Dilan Dog Magazine, per ragioni che poi andrò a spiegarvi, però in questo periodo di quarantena dove siamo costretti a stare a casa e ho pensato che sarebbe stato carino parlare un po' di più di fumetti, di letture, di cose che si possono fare a casa e questo magazine lo trovate appunto in edicola se avete la fortuna di avere un'edicola dove andate a fare la spesa una volta a settimana una persona per famiglia. Perché di solito non prendo il magazine? Perché non leggo il magazine, nel senso che lo prendo per leggere i fumetti che ci sono dentro, ma di tutto questo malloppone leggo due storie e tutto il resto, sì, lo leggo perché tendo a leggere tutto quello che compro, ma con molta fatica. Per esempio in questo caso non sono proprio riuscito a leggere tutta la prima parte, per chi non lo sapesse il Dilan Dog Magazine, oltre a parlare di fumetti, è una vera e propria rivista che parla di genere horror e tutta la prima parte parla proprio dei vari film, anche Splatter, dove c'è il serial killer di turno che ammazza tutti i vari stereotipi, diciamo, del genere horror. Tra l'altro se vi piace lo sdoganamento degli stereotipi del genere horror, vi consiglio un film di Joss Whedon che è La Casa nel Bosco, vi metto il link in descrizione. Praticamente, come ho già detto in molti video a tema Dilan Dog, a me l'horror non piace come genere cinematografico, mi piace molto leggerlo nelle pagine di Dilan Dog, che a sua volta non è un fumetto prettamente horror, è un fumetto che si spaccia come horror, ma che usa l'horror, usa lo Splatter come pretesto per raccontare qualcos'altro, per raccontare i mostri che ci sono nelle ombre della nostra vita reale. Mentre gli horror, quantomeno quelli di cui si parlano nella prima parte, sono veri e propri Splatter che a me non piacciono. Quindi fondamentalmente ho speso 6,90€, sapendo già che non avrei apprezzato appieno il volume che avevo in mano. Sono stato invece particolarmente sorpreso dalla seconda parte, dove appunto si parla di horror a tema molto più fantasy, molto più mitologico, e se mi avete seguito in altri miei video o nelle live di Harry Potter che sto facendo in questi lunedì e martedì, ci saranno anche lunedì e martedì prossimo, e lunedì e martedì prossimo ancora se tutto va bene, dove c'è di mezzo la mitologia, il folklore, il fantasy diciamo legato alle nostre tradizioni, lì l'horror mi piace di più. Infatti nella seconda parte si parla proprio di vampiri che sono appunto legati alla nostra storia, al nostro folklore europeo, quantomeno. Si parla anche di baffi, l'ammazza vampiri, quindi quella lettura è stata fantastica, quell'articoletto su baffi, l'ammazza vampiri mi è piaciuto molto. Mi scuso eternamente per il fatto che non sto ancora facendo video su baffi, ma è come quando una cosa vi piace così tanto che non riuscite bene a dimensionarle in un video, quindi appena ci riuscirò, ve lo prometto, ne parlerò in qualche modo di baffi. La quarantena non mi sta aiutando perché io sto andando a lavorare, dato che rifornisco generi di prima necessità, purtroppo. Purtroppo nel senso che non riesco a avere il tempo che vorrei da dedicarvi. Bene, detto questo parliamo della ciccia che c'è qua dentro, cioè delle due storie a fumetti. Storie molto interessanti perché a quanto pare queste storie parlano del passato di Dylan Dogg e a quanto pare parlano del passato di Dylan Dogg 666, ovvero del passato del nuovo corso di Dylan Dogg che è partito con il numero 401. Perché dico questo? Perché la prima storia che parla principalmente della gioventù dell'ispettore Sherlock Block, dove ci mostra il cadetto Dylan Dogg alla sua prima missione in servizio come agente di Scotland Yard e ci fa capire come Dylan Dogg chiamasse già papà l'ispettore Block, quindi è il nuovo corso di Dylan Dogg, dove Sherlock Block ha adottato Dylan Dogg. E nella seconda storia, che parla proprio della gioventù di Dylan Dogg, ci mostra nel finale come Sherlock Block prende in considerazione l'idea di non far tornare Dylan in orfanotrofio e di adottarlo. Quindi entrambe le storie sono dei prequel alla nuova saga 666 diretta da Roberto Lecchioni. Ci spiega anche come Dylan Dogg possa aver provato le droghe in passato, così come ha detto nel numero 402 Il Tramonto Rosso. Nella seconda storia la droga che Dylan Dogg ha provato quando era in orfanotrofio e cavalcava i suoi anni selvaggi, come ho detto nell'altro video, sono droghe acustiche che ha provato contro la sua volontà. si scopre che va in questo negozio per rubare un disco dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, che vi metto in descrizione, così vi potete godere le due canzoni che sono citate qua dentro mentre leggete il fumetto, cosa che vi consiglio, così vi sballate. e mentre ascolta questo brano, The Dark Side of the Moon, scusate, questo album, The Dark Side of the Moon, diciamo il sedicente negoziante lo collega a delle droghe acustiche che esistono davvero nella realtà, che praticamente attraverso il nervo uditivo vi fanno sballare. Quindi può darsi che il riferimento del numero 402 sul fatto che Dylan Dogg nel suo passato avesse provato anche delle droghe può essere riferito a questo, se poi presupponiamo che dopo questo evento è stato adottato da Sherlock Block ed ha iniziato ad andare sulla retta via per rendere orgoglioso il suo padre adottivo, come abbiamo visto nella prima storia, prima storia dove appunto Dylan Dogg si è iscritto all'accademia di polizia per compiacere il suo padre adottivo che di rimando lo tiene molto in considerazione, anche più del suo vero figlio. In questa storia prequel, che come vi ho detto, le storie prequel di Dylan Dogg sono sempre una cosa succosa per noi fan, in questa storia prequel si scoprono, si scoprono, si vanno ad approfondire tre cose. Uno è come se fosse un prequel anche del numero 200 in cui vediamo come Virgil, il figlio di sangue dell'ispettore Block, inizia a sviluppare questo senso di inadeguatezza nei confronti del padre, nei confronti anche del fratello adottivo Dylan e come per questo suo senso di inadeguatezza e anche questo suo, in un certo senso, desiderio di attenzione, desiderio di amore, si affacci purtroppo per la prima volta nel finale di questa storia alle droghe, che poi lo porteranno, si sa dove, se conoscete la storia. Parlando sempre di drugs, in questo caso di farmaci, si scopre anche di come l'ispettore Block si affacci per la prima volta agli antiemetici, di come all'inizio li rifiuti perché li consideri un farmaco da deboli, da femminucce, perché comunque lui è un ispettore di polizia, quindi è tutto ad un pezzo, ma non può fare a meno di vomitare nel giardino delle vittime dopo che ha visto gli scempi operati dagli assassini, quindi molto probabilmente dopo questa storia inizierà a prendere degli antiemetici. E scopriamo anche come Dylan inizia a ragionare sul fatto, mi riferisco a una particolare inquadratura nel finale della prima storia in cui il mostro, una volta catturato, faccia riflettere Dylan di come non fosse per forza lui il mostro, i mostri sono ben altri, in questo caso era il delirio di un pazzo, un pazzo che non aveva tutti i torti perché comunque era un mostro generato a sua volta dalla società, in questo caso dalla menzogna di qualcun altro. Ciò però non giustifica le azioni di un adulto normale che si deve, non dico prendere le sue responsabilità perché in questo caso appunto è stata una vittima degli eventi se mi passate la citazione di un'altra opera di Dylan Dogg, ma ciò nonostante non è una scusante per compiere una vendetta così crudele. La vignetta in particolare a cui mi riferivo è questa, in cui Dylan Dogg inizia a riflettere su quello che dice il villain di turno e che potrebbe portarlo un domani a stare dalla parte dei mostri, delle vittime della società. È una storia che raccomando a tutti, anche come storia per poter iniziare Dylan Dogg, perché no, e soprattutto è una storia che raccomando anche alle persone che non amano il fantasy, che non amano l'horror, perché questa, la prima, ma anche la seconda, perché no, è una storia che non è soprannaturale, è tranquillamente una storia poliziesca che potreste vedere in un qualunque telefilm a tema poliziesco appunto che potreste trovare sulla televisione. Quindi se volete iniziare a scoprire Dylan Dogg, ma non vi piace il lato prettamente fantasy del fumetto, prettamente horror del fumetto, questa è una fantastica storia poliziesca, con un Dylan Dogg stranamente con un istinto davvero efficace, molto meglio del suo fortunato quinto senso e mezzo. Qua si vedono proprio delle doti investigative che spesso e volentieri Dylan Dogg nella serie regolare non ha, che è una cosa un po' strana, dato che è un investigatore privato. Qua invece mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto l'essere brillante del protagonista. Bene, con questo è tutto, non voglio tediarvi oltre con la mia persona, vi ho già detto tantissime informazioni, quindi lascio che voi le assemeliate, e noi ci vediamo nel prossimo video, che non so dirvi quando uscirà per via di questa quarantena, ma uscirà, così ho citato anche un altro illustre youtuber, parafrasandolo. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video.